Giornale Radio Nuova È stato arrestato il terzo malvivente che domenica scorsa ha preso parte alla rapina al Bar Roma di Macerata Si tratta di Sergio Rogante 52enne con precedenti per rapina furto e traffico di stupefacenti sorpreso nel sonno dagli agenti della polizia all'alba di ieri nella sua abitazione a Porto Sant'Elpidio Le operazioni sono state svolte dalla squadra mobile guidata dal vicequestore aggiunto Alessandro Albini Gli agenti a poche ore dal colpo avevano già provveduto all'arresto degli altri due rapinatori Trattasi di Riccardo Pastore 64 anni Ai domiciliari a Muccia poi ospitati in un bed and breakfast a Macerata e Angelo Paolucci 46enne maceratese Le indagini sono condotte dal sostituto procuratore Margherita Brunelli e coordinate dal procuratore Giovanni Giorgio I negozianti del centro storico di Macerata hanno incontrato il sindaco romano Carancini e gli assessori Stefania Monteverde Mario Iesari e Paola Casoni per puntare l'attenzione sull'accessibilità del centro e sulle conseguenti ripercussioni sul commercio cittadino l'associazione commercianti del centro storico parla di un ottimo dialogo con la giunta che porterà un nuovo incontro la prossima settimana l'opposizione richiede invece una profonda e tempestiva rivisitazione delle disposizioni sulla ZTL con particolare riferimento all'apertura in fasce orarie programmate nonché all'eliminazione dei gravi disagi e alla conseguente facilitazione di ingresso per i fornitori, gli operatori, gli artigiani, le ditte edili eccetera che in centro storico debbono recarsi per motivi di lavoro la mozione verte anche sulla riqualificazione del centro oltre alla promozione di politiche di egevolazione alla residenzialità al commercio e all'artigianato auspicando una soluzione condivisa Cinque donne sono state soccorse dagli operatori del 118 dalla Croce Verde e dai carabinieri a Civitanova Alta nella notte dell'8 marzo per aver bevuto qualche bicchiere di troppo singolare il caso di una donna scagliatasi con calci e pugni contro la porta dell'abitazione dell'ex compagno che preoccupato ha allertato i carabinieri della locale compagnia la donna è stata accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale di Civitanova Marche ha invece inveito contro il compagno e distrutto parte del mobilio della sua abitazione una 26enne di origine ucraina a Porto Potenza anch'essa trasferita al pronto soccorso di Civitanova un 44enne italiano è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile di Ancona insieme a quelli del commissariato di Iesi dopo aver trovato in suo possesso circa mezzo chilo di cocaina purissima che rivenduta a un prezzo sul mercato di circa 80 euro al grammo l'uomo era da tempo tenuto sotto controllo dalla polizia nella convinzione che avesse intrapreso una fiorente attività di spaccio nel corso della perquisizione sotto un cassetto in cucina sono state trovate tre buste contenenti 113 dosi confezionate per lo spaccio oltre alla droga gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato nascosti all'interno di una intercapedine 6.000 euro in contanti di provento dell'attività di spaccio un bilancino di precisione e tutto l'occorrente per il confezionamento delle dosi di cocaina il 44enne è stato rinchiuso nel carcere di Montacuto la guardia di finanza di Bologna ha sequestrato oltre 5.000 scarpe sportive con il marchio falso della Golden Goose in due centri di distribuzione di funo di argelato Bologna e in un laboratorio di fermo nella cittadina emiliana le fiamme gialle sono intervenute in due aziende dedicate al commercio all'ingrosso e grazie all'esame della documentazione contabile rinvenuta nelle ispezioni i finanzieri sono risaliti al centro della produzione una ditta di fermo che produce calzature in cui sono stati sequestrati 4.000 articoli tra scarpe, tomaglie, suole e sottopiedi tre le persone denunciate il responsabile dell'attività produttiva della ditta di fermo, un cittadino cinese e i titolari dei due centri di distribuzione sul territorio emiliano i dazzi su acciaio ed alluminio varati da Donald Trump minacciano anche l'export marchigiano non si tratta di ripercussioni immediati sottolinea il presidente CNA Marchegino Sabatini in quanto nelle marche non ci sono acciaierie non si producono materie prime ma in prospettiva una guerra commerciale con gli Stati Uniti d'America penalizzerebbe pesantemente le piccole e medie imprese marchigiane l'export di merci e servizi nei primi nove mesi del 2017 ammonta a 652 milioni di euro le importazioni a 125 milioni con un saldo attivo di oltre mezzo miliardo di euro e in aumento di oltre 78 milioni il 17,5% in più è dunque evidente che il sistema produttivo marchigiano potrebbe subire un colpo notevole politica di coesione questo è il tema della giornata di approfondimento svolta sia a Palazzo Raffaello e organizzata da Regione Marche e dall'Associazione dei Comuni e delle Regioni d'Europa la politica di coesione equivale a un terzo del bilancio dell'Unione Europea contribuisce a ridurre le disparità regionali affronta le grandi sfide globali come i cambiamenti climatici e le migrazioni politica di coesione significa lavoro e nuove attività economiche e imprenditoriali per le marche si concretizza con oltre 1,2 miliardi di euro stanziate attraverso i fondi sociale europeo sviluppo regionale, sviluppo rurale e politica marittima grazie alla politica di coesione le marche hanno anche avuto altri 400 milioni per la ricostruzione economica e sociale delle aree terremotate ascoltiamo le parole dell'assessore alle politiche comunitarie della Regione Marche, Manuela Bora siamo oramai quasi a metà settennio e per quanto riguarda il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale sono già stati impegnati quasi 140 milioni di euro e invece per quanto riguarda il Fondo Sociale Europeo circa 40 milioni inoltre da quest'anno saranno disponibili oltre 400 milioni di euro sono i fondi derivanti dal riparto appunto del Fondo di Solidarità del Cisma per cui in totale al miliardo e 200 milioni di euro che avevamo in totale ne avremo insomma circa un miliardo e 600 milioni una cifra molto importante la Regione Marche dovrà dimostrare di saperli spendere in modo efficiente Simone Scipioni, 20 anni di Monte Cosero è il settimo Masterchef italiano il sindaco mi ha comunicato che la strada per diventare patrono è lunga ha detto scherzando quindi per il momento mi devo accontentare di una targa grande festa nel teatro delle loggie in piazza Trieste dove l'altra sera si sono dati appuntamento gli amici, i parenti, i cittadini di Monte Cosero e dei paesi confinanti Simone si è giudicato 100 mila euro con cui potrà coronare i propri sogni tra dieci anni mi vedo nel mio ristorante che però non sarà a Londra ma a casa mia nel mio paese dal quale magari uscirò però più spesso a riferito Scipioni lo sport e apriamo ora la pagina sportiva c'è grande attesa per la quinta tappa della Tirreno Adriatico che domani mattina partirà da Castel Raimondo proseguirà per San Severino Marche e attraverserà Passo di Treia per poi affrontare il percorso dei muri con arrivo a Filottrano una giornata all'insegna del ricordo di Michele Scarponi il grande campione di ciclismo scomparso un anno fa è facile intuire come ciò rappresenta un'occasione unica per il comune di Castel Raimondo affermato il sindaco Renzo Marinelli di conseguenza per l'intero comprensorio provinciale dal punto di vista della visibilità si tratta di un evento che richiede un'elevata capacità organizzativa c'è perciò bisogno dello sforzo di tutti per cogliere appieno tutte le opportunità che l'importanza di questo evento offrirà il percorso inizia con una leggera e costante discesa per raggiungere la zona dei muri di cui si ha un primo assaggio salendo a Montelupone per poi arrivare a lungomare attraverso Porto Recanati si affrontano quindi Castelfidardo, Osimo e ai 5 chilometri dall'arrivo il muro di Filottrano con pendenze fino al 15% e passiamo alla palla a volo domani alle ore 18 all'Eurosuole Forum la Cucinelube Civite Nova inizia i play-off scudetto con la gara 1 dei quarti di finale contro la Wixo LPR Piacenza i cucinieri hanno voglia di cominciare bene il percorso che porta lo scudetto che è ancora cucito sul loro petto al di là della rete c'è un avversario agguerrito e composto da un discreto numero di ex Lube dalla panchina al campo di gioco quello di domenica oltre ad essere il match numero 47 in assoluto tra le due formazioni sarà anche il terzo incontro nei play-off scudetto sappiamo che la Lube è una grande squadra possibile finalista scudetto insieme a Perugia noi scenderemo in campo con la consapevolezza che non abbiamo niente da perdere e che dobbiamo continuare sulla trend che abbiamo avuto in questo ultimo periodo riferisce l'opposto piacentino Alessandro Fei per la Lube a parlare è il libero Eugenia Grebenikov sentiamo iniziamo i play-off adesso in campionato contro Piacenza abbiamo sempre avuto un po' di difficoltà contro loro questa stagione abbiamo vinto due volte 3 a 2 una bella squadra perché giochiamo comunque con una bella squadra di Piacenza che hanno fatto una bella stagione questa settimana abbiamo lavorato molto bene per quello che penso che possiamo vincere e fare il massimo domenica il centro nuoto macerata festeggia la spettacolare performance di Maria Chiara Cera atleta maceratese partecipante ai campionati italiani di nuoto in basca corta della Federazione Sport Sord Italia disputati a Fabriano Maria Chiara ha infatti preso parte a 6 gare ed è salita sul podio in ognuna di queste e per 4 volte è stata anche la migliore portando a casa ben 4 ori 50, 100, 200 metri d'orso oltre ai 50 stile e 2 argenti 50 farfalla e 200 misti felice il tecnico Franco Pallocchini per la crescita della sua atleta che ha consentito al centro nuoto macerata di piazzarsi al secondo posto della classifica di società l'allenatore del team Italia Vito del Priore ha infine lasciato intendere che Maria Chiara potrebbe far parte del gruppo selezionato per i prossimi campionati europei che si svolgeranno in Polonia nel mese di luglio Il tempo nelle marche E in chiusura uno sguardo alle previsioni di domani domenica 11 marzo sulla nostra regione nuvolosità irregolare con la possibilità di piogge sparse più consistenti sulle località interne e nella serata venti moderati da sud sud-ovest temperature in aumento mare da poco mosso a mosso Termina qui questa edizione del giornale radio che potete riascoltare sul nostro sito radionuova.com da parte di Marco Morosini in studio grazie per l'ascolto e buon proseguimento Giornale Radio Nuova Grazie a tutti Grazie a tutti